PAPÀ 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 Ma perché devi sempre partire? Immagina che un uomo senza scrupoli, un bagasciaronato, metta la pistola sulla tempia e ti dicevo parti, apremo il grilletto. Tu che fai? Parti. Non devi dire a nessuno che ci hai visto in questo posto, come sono partito io e tanti altri. Che pensi che non ci ho provato mille volte a farlo restare? Ma la fatica basta appena non morire di fame. Ti spacco la testa in due e ti spacco! Così parte e non ci pensa più.